Buonasera a tutti, io sono Mariano Scaglione e ho l'onore di presentare il professore politico che non ha bisogno delle mie presentazioni per la verità, che è professore ordinario, neuroradiologo, responsabile delle unità funzionali di neuroimaging, della scuola di specializzazione, con una vasta esperienza che lo ha portato anche oltreoceano, a Boston, o Children's Hospital, che oggi ci parlerà di un argomento estremamente importante, che sono i traumi spinali, che evidentemente, come voi sapete tutti, è un argomento che non riguarda soltanto i neuroradiologi, ma soprattutto quelli che come noi si occupano di urgenza e che vivono l'urgenza anche di notte e che sono chiamati a riflettere il racchide. Quindi, senza perdere tempo, darei la parola al professore e prendiamo dalle sue labbra, naturalmente. Prego. Allora, grazie. Ringrazio chiaramente il professor Scaglione per la presentazione. È un onore essere presentato da un radiologo così noto nell'ambito dell'emergenza radiologica e permettetemi un istante di ringraziare anche il professor, anche Alessandro, che ci ha invitato e mi ha rinvitato in questa bellissima iniziativa, il professor Carriero, di Specializziamoci Insieme, che abbiamo fatto l'anno scorso e che facciamo con estremo piacere anche quest'anno e con le presentazioni veramente di grandissimo livello. Siete in grado di vedere le slides? Perfettamente. Perfetto, benissimo. Allora inizio. Inizio facendo una breve riassunto di quello che vi presenterò nei prossimi 15 minuti, 45 minuti, perdonate, cioè una breve, alcuni brevi cenni di anatomia della colonna, farò qualche nota sulle tecniche e sul protocollo da utilizzare in urgenza per lo studio della colonna, ci focalizzeremo su quello che è il punto centrale poi della presentazione, che chiaramente sono le urgenze traumatiche della colonna e faremo qualche cenno se riusciamo anche sulle urgenze non traumatiche della colonna, per poi concludere e darvi qualche suggerimento di lettura. Quindi cominciamo con qualche cenno di anatomia e io comincio, mi scuseranno gli specializzanti un po' più anziani, specializziamoci insieme un po' una tecnica di insegnamento quasi da Montessori in cui abbiamo sia i giovani meno esperti che quelli un po' più anziani che sono maggiormente esperti, però quest'anno quando sono arrivati i nostri specializzanti del primo anno qui abbiamo subito fatto qualche lezione dell'atomia radiologica e la domanda che tipo di vertebra è questa, se è una vertebra cervicale, toracica, lombare o sacrale, non tutti hanno immediatamente saputo rispondere. È ovvio che quindi bisogna, per poter parlare di radiologia della colonna, avere in mente quali sono un pochino i principi dell'anatomia e delle differenze fra le diverse vertebre. Ovviamente qui siamo a un livello in pratica L1 e quindi siamo su una vertebra lombare. Le vertebre hanno delle differenze, hanno delle caratteristiche, al di là delle prime due vertebre che hanno delle caratteristiche morfologiche del tutto proprie, anche le altre vertebre ad esempio hanno delle caratteristiche particolari. Quelle cervicali hanno tipicamente il forame intratrasversario all'interno del quale passano l'arteria e la vena vertebrale. In quelle toraciche abbiamo due articolazioni a livello del soma con la testa della costa sovrastante e con la testa della costa sottostante e poi l'articolazione costo trasversale, quindi abbiamo ben tre articolazioni con le coste, un aspetto molto sagittalizzato del processo spinoso, invece nelle lombari abbiamo un aspetto levemente differente e dobbiamo ricordarci anche quelli che sono i principali legamenti della colonna che sono fondamentali nella stabilità e nelle alterazioni della stabilità post-traumatica della colonna ed in particolare il legamento longitudinale anteriore che chiaramente riveste la porzione, il muro anteriore dei somi, il legamento longitudinale posteriore con il suo caratteristico aspetto festonato che riveste invece il muro posteriore, naturalmente i legamenti gialli ma anche i legamenti interspinosi, i legamenti sovraspinosi, a livello cervicale abbiamo anche i legamenti intertransversari e poi i legamenti importanti della cerniela atrocipitale, il più importante è chiaramente il legamento cruciforme e in particolare la porzione trasversa del legamento cruciforme, i legamenti alari e la membrana tectoria che non è altro che diciamo l'estensione più craniale del legamento longitudinale posteriore che va ad inserirsi sul clivus e fino ad arrivare all'altezza della porzione dell'osfenoide che va a costituire il clivus, la porzione inferiore come sapete è costituita fondamentalmente dall'osso occipitale e questo naturalmente si riflette nella nostra anatomia radiologica, queste sono delle vecchie RX di vertebre umane fatte ex vivo, quindi vedete il caratteristico aspettico delle vertebre cervicali con i processi uncinati che sono del tutto caratteristici delle vertebre cervicali comprese fra la terza e la settima, vediamo questo aspetto chiaramente il forame intertrasversario, un aspetto piuttosto obliquo dei forami di coniugazione che si riflette chiaramente con la differente incidenza che noi utilizziamo nell'RX di tipo obliquo e come vediamo in TAC chiaramente possiamo riconoscere tutti meglio ancora questi aspetti, nuovamente il forame di coniugazione che è un andamento piuttosto obliquo, i forami intertrasversari e le articolazioni interapofisari, questo è C7 con una grande apofisi trasversa. A livello lombare l'aspetto invece è relativamente come vedete differente con dei peduncoli relativamente più lunghi, un aspetto un po' più sagittalizzato delle articolazioni interapofisari è un aspetto diverso chiaramente del SOMA, dei processi trasversi e del processo spinoso. Ricordiamoci naturalmente che il midollo spinale termina normalmente a un livello compreso fra la limitante somatica superiore di D12 e del piatto vertebrale superiore di L2, normalmente ad un livello corrispondente all'incirca al piatto alla limitante somatica superiore di L1 e che a questo livello non ne sono contenuti la sostanza grigia, il secondo motoneurone del DL1, ma il livello che corrisponde al SOMA di L1 in realtà corrisponde a un mielomero che è S1, per cui la rappresentazione è chiaramente diversa da quella dell'altezza dei SOMI. Cosa succede quando abbiamo una lesione del midollo spinale? Le due evidenze più caratteristiche sono in caso di lesione completa una paraplegia, quindi un difetto motorio che può essere sia motorio che sensitivo negli arti inferiori, nella tetraplegia anche agli arti superiori, questi sono degli aspetti di lesioni incomplete. Nella sindrome di Brown-Secord invece abbiamo una plegia da un lemilato e un difetto di sensibilità dal lato controlaterale, nelle lesioni anteriore abbiamo un difetto motorio nella porzione posteriore, nelle lesioni e porzioni centrali abbiamo invece un difetto che è tipicamente motorio prossimale e invece fondamentalmente sensitivo distale. Due rapidissimi cenni sulla vascularizzazione, abbiamo tre arterie e due vene per i midollari, l'arteria sono un anteriore e due posteriori, l'anteriore decisamente più importante anche come calibro, naturalmente normalmente fra i 0,8 e 1,2 mm, mentre posteriormente siamo fra i 0,4 e 0,8 mm, possono esistere diverse arterie spinali, la principale è l'arteria di Adanchevich, tipicamente nasce da D9, da D10, da D11, più frequentemente dal lato sinistro, ovviamente una grande variabilità, questo è un ramo di un'arteria intercostale, questa arteria chiaramente bisogna conoscerla, se per esempio si va a fare un'embolizzazione di un'arteria intercostale, magari in una lesione di un'arteria post-traumatica, bisogna sapere e conoscerla, non evitare chiaramente di embolizzarla, perché la chiusura di questa può essere, di questa arteria di Adanchevich, può essere responsabile di una lesione ischemica del midollo. Le vene sono altrettanto importanti, i plessi venosi sono altrettanto importanti, gli infarti, infatti, a livello del midollo spinale, possono essere non solo di tipo arterioso, ma anche di tipo venoso, come avviene per esempio tipicamente nelle fistole edulari, e anche qui abbiamo degli ampi plessi venosi che comunicano con le vene lombare, e a livello cervicale vi è una comunicazione anche con il sistema del drenaggio intracranico, giusto per ricordarvi le fistole arterovenose del quinto tipo con scarico peri midollare, secondo la classificazione di Cognard, in cui anche una fistola durale del cranio può essere responsabile di una minopatia cervicale, a seconda dell'anatomia dei drenaggi venosi. Quindi, fatto questo rapidissimo cegno, che ovviamente non può essere esaustivo, dati i tempi, passiamo a dare un paio di indicazioni sugli protocolli. Direi che non mi soffermo sull'RX, è ovvio che vada fatta nel cervicale la proiezione per il transorale, per il dente dell'epistrofeo, faccio giusto un paio di notazioni sulla TAC. Tipicamente il paziente con il politrauma che viene, ma questo ovviamente può essere oggetto adesso di discussione, più tardi insieme al professor Scaglione, posso essere, e sono convinto che diversi centri abbiano diversi protocolli in merito. Tipicamente il paziente che viene con il politrauma fa un'ATAC dedicata dell'encefalo, fa un'ATAC del racchide cervicale, poi fa anche spesso un'ATAC torace-addome. A mio avviso può non essere sufficiente fare delle ricostruzioni sagittali a partenza dalle scansioni del torace-addome per fare una valutazione della colonna. E invece sarebbe più opportuno utilizzare i dati grezzi e chiedere al nostro tecnico di rifare delle costruzioni a strato sottile, quindi 0,6 mm, 0,8 mm, dipende dal, in base chiaramente al tipo di scanner che abbiamo, con una, chiaramente un algoritmo per osso, a strato sottile, con un campo di vista piccolo. Il campo di vista che normalmente utilizziamo nelle acquisizioni delle immagini dedicate del lombare e del torace. E questo perché, chiaramente, abbiamo bisogno di un'altissima risoluzione sulla colonna e poi le ricostruzioni per la colonna in sagittale e coronale le possiamo fare a partenza da quel set di immagini. Mi rendo conto che è una cosa molto dispendiosa dal punto di vista del tempo, ma può essere estremamente utile per rilevare fratture che altrimenti sarebbe difficile cogliere. Un breve cenno all'angiotac. L'angiotac ha un ruolo, ogni qualvolta noi vediamo un danno in un forame all'interno del quale passa un'arteria. Quindi è chiaro che se vediamo a livello encefalico un danno nel canale carotico, nell'osso temporale, è chiaro che lì dobbiamo richiedere un angiotac. Similmente, se troviamo una frattura che coinvolge il forame intertrasversario da C6 a C1, dove chiaramente passa l'arteria vertebrale, diventa importante aggiungere al nostro protocollo TAC anche l'angiotac al fine di escludere delle lesioni cervicali o delle eventuali dissezioni. E infine anche l'emarai potrebbe avere il suo ruolo nel trauma e in generale comunque nell'urgenza spinale. Anche questo ovviamente esistono diversi, secondo me, protocolli in diverse istituzioni, però nel caso di una contusione, addirittura di una compressione, di una transezione del midollo, come vedremo nel caso del scivora, nel caso di ematomi epidurali spinali, nella sindrome della cauda equina o per distinguere una lesione acuta fratturativa da una cronica, può essere utile aggiungere alla risonanza. Mi permetto di dire che forse l'ambito spinale è l'ambito nel quale la risonanza può avere un'indicazione realmente urgente, molto più che non a livello encefalico. una volta che la gestione dell'ischemia cerebrale può essere eseguita con TAC, angiotac e TAC di perfusione, addirittura quello che dicono le linee guida in questo momento chiaramente di evitare le risonanze qualora comportino una perdita di tempo per il trattamento nelle lesioni ischemiche. Al contrario, nella colonna esistono delle indicazioni, come vedremo a breve, per le quali può essere assolutamente utile effettuare un esame anche in condizioni di urgenza. Vi faccio vedere un esempio di quello che avevo anticipato prima. Adesso spero che parta, ma ovviamente non partano i filmati. Chiedo scusa, ma nel trasferimento qualcosa è andato storto. Vi faccio vedere giusto queste due immagini, queste due ricostruzioni. Questo era un attac del bacino e del sacro in un trauma di una signora. Non sono state fatte ricostruzioni mirate all'evelo del sacro. Si intravede una piccola incisura qui, forse una sottile discontinuità. In realtà la frattura, una volta ricostruita con la TAC e con alta risoluzione, è possibile visualizzarla. Vi faccio vedere giusto la risonanza che documenta un importante edema in questa immagine T2 e FATSAT in un quadro di chiara frattura del sacro. Questo quindi può essere utile per documentare delle fratture che è difficile visualizzare, ma è anche utile avere una particolarmente elevata risoluzione nel momento in cui dobbiamo distinguere se è una frattura vertebrale, è acuta oppure è cronica. Esistono chiaramente diversi segni. Naturalmente il principio fondamentale è trovare un'interruzione della corticale e trovare un affastellamento delle trabecole. Questo è un esempio di letteratura, ma è particolarmente interessante perché qui vedete con le frecce bianche le lesioni vertebrali acute in questo paziente porotico che ha avuto un lieve trauma e in frecce gialle invece le lesioni antecedenti. Quindi vedete qui questa irregolare, lieve irregolarità della trama della trabeculatura ossea che è un indice di frapposizione. Vedete qui anche una lieve interruzione a livello del muro anteriore della vertebra che sono segni chiaramente di frattura di tipo acuto. Nel caso di dubbio, come dicevo prima, la risonanza può venirci incontro, risonanza che farà vedere le vecchie fratture come al limite piccole bande di ipointensità in T1, ma documenterà un'assenza di edema della spongiosa ossa edema della minullare che invece documentiamo molto bene sia con le care vecchie T1 che è con le immagini T2, FATSAT o STIR che siano e che ci permettono pertanto di distinguere agevolmente le fratture acute da quelle croniche. Quale può essere un protocollo di risonanza da utilizzare? Chiaramente varia in base all'indicazione. Sicuramente faceremmo le tre classiche sagittale, T1, T2 e STIR o le T2 e la STIR sostituite da una T2 Dixon, fare un assiale anche T1 può essere utile nei quadri post-traumatici, può esserci utile una T2 star in sagittale o in assiale, nel caso abbiamo il dubbio di un ematoma o di un'erniazione post-traumatica. Abbiamo poi come sequenze aggiuntive nelle forme non traumatiche che possono essere utili le sequenze di diffusione. esistono adesso delle nuove tecniche di acquisizione come il risolvo o il zoom che consentono di avere anche una buona risoluzione, un'assenza di distorsioni anche a livello della colonna e poi il contrasto che naturalmente è assolutamente fondamentale in tutti quei casi di tumori e di infezioni e vedremo degli esempi successivamente sulle forme non traumatiche. concentriamoci adesso a discutere invece le forme traumatiche, quindi le urgenze traumatiche. vi riporto qui qualche numero che potete comunque, ci sono due piccole paginette che potete scaricare da internet sul sito del National Spinal Cord Injury Statistical Center statunitense. Negli Stati Uniti ci sono circa 12.000 casi l'anno di spinal cord injury, quindi di danno del midollo spinale, circa la maggior parte è causato da motor vehicle accidents, quindi da incidenti stradali, ma giusto abbiamo poi un per cento delle cadute, cause di aggressione, traumi sportivi, ma anche forme iatrogene per un 4%. Abbiamo quindi una prevalenza di una spinal cord injury, quindi di un danno del midollo spinale, di ben 300.000 persone soltanto negli Stati Uniti, dove la popolazione è all'incirca di 300 milioni di persone. Se invece consideriamo le fratture vertebrali, quindi indipendentemente o meno se siano causa di un danno del midollo spinale, l'incidenza mondiale è stata stimata intorno ai 770.000 nuovi casi di fratture vertebrale ogni anno. È una patologia che tipicamente colpisce la giovane età, anche se l'età è aumentata negli ultimi 10 anni da 29, circa 43, con un costo sociale veramente, veramente elevato. Le fratture cervicali sono più frequenti e non a caso la sintomatologia purtroppo più frequente è quella di una tetraplegia, anche se incompleta. E questo chiaramente riflette la maggiore frequenza delle lesioni cervicali. Vi mostro adesso, ecco, se nel... Chiederei a tutti, ecco, un attimino di concentrarvi su questa diapositiva, perché forse è la diapositiva più importante di tutta la lezione. E cioè quella che è la checklist del nostro reporting dal... fondamentalmente ci concentreremo sulla TAC. Ed è un lavoro che è stato preso da Radiographics sul... basato appunto sul concetto del Toracic Endumbar Spinal Cord Injury Classification. E cioè ci sono alcuni punti che è assolutamente fondamentale che noi controlliamo e valutiamo. Cioè innanzitutto il pattern di danno, e quindi se è un danno da compressione, se è un danno da scoppio, da distrazione o da traslazione e rotazione. Quindi descrivere la morfologia della frattura, descrivere l'entità della perdita dell'altezza, dire se c'è... se il muro posteriore è integro o se c'è una retropulsione di un fragmento che può andare a comprimere il midollo, dire se chiaramente c'è un grado di alterazione della normale curvatura, quindi una cifosi o un incremento della lordosi, e valutare quello che è il posterior ligament complex. Cioè quei complessi di legamenti posteriori perché sono estremamente importanti per valutare la stabilità di una frattura. Quindi alcuni punti importanti. Innanzitutto dire se c'è una dislocazione, una lussazione o una listesi delle vertebre. Valutare quindi se c'è per esempio un incremento dello spazio interspinoso, non tanto perché è un segno indiretto della frattura, ma perché è un segno di rottura dei legamenti interspinoso e sovraspinoso, e quindi di un difetto di questo complesso ligamentoso posteriore. Andare a valutare molto bene le faccette. Facciamo subito un esempio. Andiamo a vedere. Qui sicuramente è un danno da compressione, in cui abbiamo una cuneizzazione anteriore del Soma, con una perdita in corrispondenza della porzione anteriore del Soma di altezza che è all'incirca il 60% delle vertebre sovrastanti e sottostanti. Ma abbiamo anche un'interruzione del muro posteriore con una dislocazione dello spigolo somatico osterosuperiore di circa 2-3 mm. Abbiamo inoltre un'accentuazione del grado di cifosi incentrata nella sede della frattura. E se vogliamo dire anche un incremento, forse per la presenza di nematoma non ben evidente in queste immagini ricostruite per osso, qui nello spazio paravertebrale anteriore o retrofaringeo che ci appunto documenta la presenza di una frattura acuta. È estremamente importante documentare anche le listesi. Dove ho lavorato prima, se noi quando scrivevo in un referto urgente, in un referto urgente, e che vi era una listesi, per un trauma avevo sempre la chiamata del neurochirurgo che mi chiedeva, è una listesi acuta o è una listesi su base, per esempio, degenerativa. Per cui è estremamente importante nel momento in cui nelle immagini sagittali riconosciamo una listesi, questo è un paziente pediatrico, vedete la mancata calcificazione di questo nucleo epifisario a livello dello spigolo somatico anteriore e superiore, andare a vedere le immagini parasagittali, che a volte sono più importanti delle immagini sagittali. Io insegno a miei specializzanti di utilizzare la cosiddetta clockwise technique sia sull'encefalo che qui sulla colonna. Cioè mi metto e in modo orario, vertebra per vertebra, mi vado a controllare tutte le vertebre, tutti i muri somatici che siano integri. Ecco, accanto a questo dobbiamo ricordarci di valutare in parasagittale anche l'integrità delle faccette. Le listesi possono essere indice di una frattura e di una debolezza, di un difetto del complesso posteriore. Eccovi un altro esempio, qui abbiamo addirittura un'antero listesi di grado secondo e come vedete qui in questo caso è addirittura causato dallo scavallamento di una faccetta sulla faccetta successiva, quello che si chiama in letteratura anglosassone Locked Facet. Questa è una condizione che necessita una riduzione, una riduzione chirurgica. Il paziente viene posto addirittura in trazione con un collare e viene successivamente ridotto chirurgicamente. Vedete questa apofisi che è scavallato, quest'altra viene riportata posteriormente. Più frequentemente, al di là dello scavallamento, si può avere una frattura, per esempio, del processo articolare superiore della vertebra sottostante che viene spostato anteriormente. Queste sono condizioni altamente instabili che dobbiamo riconoscere. Quindi guardare molto bene le parasagittali, possiamo riconoscerle anche in assiale, il così famoso hamburger sign o reverse hamburger band sign. Questo è un aspetto normale. Vedete che le due apofisi assomigliano al pane dell'hamburger. Quando abbiamo la Locked Facet, cioè la faccetta inferiore della vertebra superiore, scavalla la faccetta superiore della vertebra inferiore, perdonate il gioco di parole, abbiamo questo segno, non combaciano più, è un po' come se la fetta di pane superiore sia stata posta distrattamente in modo invertito. E veniamo ad un altro concetto fondamentale, che soprattutto nella letteratura europea, che è quello delle tre colonne, e quindi della stabilità dovute ai tre sistemi, proposto da Dennis, a cui c'è una classificazione poi delle, corrisponde una classificazione chiaramente delle fratture. La colonna anteriore, che corrisponde a due terzi anteriori, legamento longitudinale anteriore, due terzi anteriori del somni vertebrali e dei dischi, la colonna posteriore, che invece fa riferimento al legamento longitudinale posteriore, terzo posteriore di vertebra, e del disco, e poi la colonna posteriore, invece a cui appartengono i processi spinosi, le articolazioni interapofisarie, le lamine, i legamenti gialli, e i restanti legamenti che costituiscono questa porzione posteriore. La regola fondamentale è che se c'è un fallimento, se c'è un difetto di almeno due di queste tre colonne, la colonna è stabile e pertanto merita una chirurgia. Ecco, vediamo qui, abbiamo questi anterior wedging, queste cuneizzazioni anteriori, che di per sé non sarebbero né preoccupanti né stabili, però dobbiamo riconoscere anche quest'altra frattura qui, a livello della lamina posteriore, questa frattura nell'immagine parasagittale coinvolge tutto il peduncolo e l'apofisi articolare, a questo punto questo elemento qua è molto più importante della cuneizzazione anteriore ed è questo elemento fratturativo qui che indica la chirurgia necessaria in questo paziente. Quindi queste sono le cose che dobbiamo descrivere nei nostri referti. Ovviamente spesso abbiamo dei quadri molto più complessi, abbiamo traslazioni addirittura della colonna, come in questo caso, e fratture molto complesse, che anche se, vedete qui, quando vengono riparate, i risultati poi chiaramente non sono molto positivi per il paziente. In linea generale, considerando le quattro grandi categorie di tipi di fratture, soltanto le fratture anteriori, le cuneizzazioni anteriori, rappresentano delle fratture che possono essere stabili. Ecco la classica, quindi, frattura da compressione con un'interruzione della limitante somatica superiore e spesso una frattura del muro somatico anteriore, e questa invece è una seatbelt fracture, quindi una frattura che può essere anche da distrazione, che invece è instabile, in questo caso associato ad un danno del midollo spinale. Allora, esistono molte classificazioni delle fratture, non solo del cervicali, ma di tutta la colonna. Esistono troppe classificazioni. Purtroppo non potrò fare a meno di presentarvene qualcuna, cominciando dalle fratture di C1, la classica classificazione tipica che trovate in tutti i testi è la classificazione di Jefferson. Jefferson tipo 1 è una frattura fondamentalmente che interessa l'arco anteriore soltanto, l'arco posteriore soltanto, la Jefferson tipo 2 è l'arco anteriore, la tipo 3 entrambi, la tipo 4 invece interessa anche i massicci articolari. Tuttavia, questo tipo di classificazione, che poi è anche stata ripresa dall'Andes, può non essere adeguata a identificare una stabilità. Giusto per ricordare cos'è che dobbiamo guardare noi, per esempio, nella proiezione transorale. Ovviamente dobbiamo guardare l'integrità dei massicci articolari del corpo e del processo odontoide, dei massicci articolari di C1 del corpo e del processo odontoide di C2, ma soprattutto dobbiamo guardare l'allineamento delle distanze articolari fra C1 e C2, non solo a questo livello, ma anche lateralmente. Quando le masse di C1 debordano lateralmente per oltre 6 mm sommando tutti e due i lati, abbiamo, secondo la regola di Spence, un alto rischio, un'alta possibilità di avere un'instabilità di C1. L'altra cosa da valutare è la simmetria degli spazi presenti fra il processo odontoide e le masse laterali di C1. Similarmente, nella proiezione antroposteriore è importantissimo valutare la distanza fra il processo odontoide e l'arco anteriore di C1. Adesso le classificazioni che vengono più utilizzate sono quelle di Gelweiler e di Dickman che si concentrano fondamentalmente nel cercare di valutare l'integrità del legamento trasverso, che è un elemento fondamentale per documentare la stabilità della frattura. Quindi abbiamo tipo 1 che è una frattura isolata dell'arco anteriore, la tipo 2 che è una frattura isolata dell'arco posteriore, la tipo 3, che corrisponde appunto al Jefferson tipo 3, che è una frattura sia dell'arco anteriore che dell'arco posteriore, ma è stata divisa in due gruppi in base all'integrità o meno del legamento trasverso. Abbiamo poi la 4 e la 5, ovviamente per esempio nella 5 può essere importante andare a eseguire uno studio di angiotac, come vi dicevo prima. Andare a vedere l'integrità del legamento trasverso non è una cosa semplice. Qui vedete un'interruzione dell'integrità del processo trasverso documentato in risonanza. Non è una cosa banale. Da questo punto di vista può venirci incontro Dickman, che classifica le Gelweiler 3B in due sottocategorie. Di tipo 1, in cui la frattura del legamento è fondamentale centrale, è la tipo 2, che di fatto invece è un'avulsione. Vi faccio vedere questo esempio. Perché? Perché può essere rilevante? Perché c'è una nota di semiotica radiologica che può essere estremamente importante per il neurochirurgo. Questa è una frattura che coinvolge sia l'arco anteriore che l'arco posteriore di C1, e quindi è una Gelweiler tipo 3, e ha una frattura che però vediamo, vedete questa piccola calcificazione qui, questa non è altro che l'avulsione dell'inserzione del legamento trasverso che chiaramente permette la stabilità dell'articolazione fra C1 e C2. Passando alle fratture di C2, le due principali classificazioni sono quelle di Anderson, D'Alonso e De Roe Camille. Anderson, D'Alonso è quella che c'è chiaramente in tutti i testi, tipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 3, quella che coinvolge il SOM, è quella che teoricamente è maggiormente stabile e ha maggiori probabilità di poter fondersi senza necessità di un intervento chirurgico. Questo è un altro esempio di tipo 3 di D'Alonso. La classificazione di Roe Camille invece è fondamentalmente incentrata sulla direzione della rima di frattura e di tipo 1 quando va dal basso verso l'alto dal senso ventro dorsale, di tipo 2 quando la direzione è opposta, di tipo 3 quando invece è trasversale. Sono queste, quelle di tipo 1, che hanno insieme all'età una maggiore probabilità di stabilità e di poter, come dire, guarire senza necessità di un intervento chirurgico. Ecco, vedete una rappresentazione delle diversi tipi di fratture. Abbiamo qui una tipo 2, qui abbiamo una tipo 1 e qui abbiamo una tipo 3, secondo sempre Roe Camille. La frattura di Angman, detta così perché era descritta nei pazienti che venivano impiccati, tipicamente non è altro che possiamo definirla una o meno sorta di lisi istimica post-traumatica di C2. Questa è una frattura che tende ad essere instabile perché chiaramente spesso è bilaterale e a questo punto non vi è più un allineamento conservato. Normalmente può essere trattata in modo anche relativamente poco invasivo medante l'inserzione di viti che vanno ad unire questo tipo di difetto. So che è stata una rapida cavalcata delle varie classificazioni delle fratture delle prime due vertebre. Cosa succede sotto C2? Esistono chiaramente tutta una serie di classificazioni. Arrivo direttamente a quelle più importanti, ossia a quella che avevamo per esempio citato prima, alla Toro-Columbar Injury Classification System che si basa fondamentalmente su tre principi. La morfologia della compressione e l'integrità dello stato del complesso legamentoso posteriore e poi lo stato chiaramente neurologico. Questa è una valutazione che faranno il neurologo, il neurochirurgo in pronto soccorso. Questo è un tipo di valutazione che tocca fare a noi. Non dobbiamo dire al neurochirurgo, all'ortopedico, tanto li valuterà lui. Dobbiamo sempre ricordarci che questo è il nostro mestiere, che noi dobbiamo fare la differenza e dobbiamo collaborare in modo stretto e rispondere alle necessità dei nostri colleghi. Questo perché il nostro lavoro deve essere, deve restare assolutamente incentrato sulle nostre competenze, sulle nostre capacità e non lasciare che siano altri specialisti a fare il nostro lavoro per mancanza di nostro tempo nel riuscire a refertare in modo adeguato. Quindi questo tipo di valutazione deve essere presente, anche se in modo chiaramente sintetico, nei nostri referti. Adesso questa classificazione è stata un pochino superata dalla AO Spine Classification, dalla AO Society, che è una società svizzera fondata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è una sorta di, permettetemi, il paragone TNM delle fratture, in cui, diciamo, il primo termine, il primo simbolo è il tipo di frattura e la gravità di questo di frattura. segue poi uno stato neurologico che chiaramente viene valutato dal clinico e poi i vari modifiers che sono in grado di modificare. Queste, se andate sul sito dell'AoSpine, potete scaricare tutte le schede di tutti i tipi di fratture, sono estremamente interessanti. È, diciamo, una classificazione che va a unire la classificazione americana con la classificazione europea basata sulla classificazione delle tre colonne di Dennis e quindi abbiamo, per esempio, vi faccio un esempio della Zero, in cui abbiamo solo un minimo danno a uno, a due, a tre, fino al complete burst, allo scoppio vertebrale, che è un danno di tipo A4. Abbiamo, per esempio, i danni similmente delle faccette che vengono classificati in modo adeguato. Ed ecco, quindi, un danno da trazione posteriore con interruzione dello spigolo somatico posteriore da C2. Vedete, non è soltanto questa la frattura. Vi è un incremento della distanza fra il processo spinoso di C1 e di C2. Quindi c'è una lesione che in effetti poi viene documentata anche in risonanza che coinvolge il complesso posteriore. Similmente, questa è per esempio una frattura F4 con coinvolgimento dell'arco posteriore delle faccette ed un importante listesi. Abbiamo poi le compressioni chiaramente wedge fracture che abbiamo visto, abbiamo quelle da dislocazione, da rotazione e infine quelle da scoppio. Un concetto estremamente importante che dobbiamo sempre ricordare è quello dello shiwara, cioè quello dello spinal cord injury without radiographic abnormalities. Sono cioè dei pazienti che hanno una sintomatologia neurologica traumatica da mielopatia nei quali sia l'RX che la TAC non documentano alcuna instabilità o addirittura alcuna frattura. Questi sono pazienti nei quali per esempio una risonanza magnetica urgente è estremamente indicata. Normalmente nella maggior parte dei casi fino al 60-70% dei casi sono le vertebre cervicali ed essere interessate quindi purtroppo il midollo cervicale ed è una condizione che più frequentemente colpisce l'età pediatrica anche per la maggiore lassità ligamentosa che c'è in questa età. Qui vi faccio vedere un caso di shiwara, vedete non solo la morfologia ma il segnale delle vertebre è praticamente intergo vi è tuttavia una contusione emorragica del midollo spinale e quindi chiaramente il paziente e in questo caso di letteratura è estremamente sintomatico. Ricordiamoci che non ci sono solo le fratture ma anche i mimickers delle fratture questo è quello che si chiama l'imbus bone cioè una mancata ossificazione del nucleo di ossificazione vedete che qui è riconoscibile come intatta una corticale ossea e chiaramente la formazione di osteofiti o di osse appunto intercalari fra le vertebre che non sono delle fratture. Un'altra domanda che spesso ci viene posta dai clinici è ma questa frattura in un paziente che ha avuto un trauma minore che è anziano è una frattura su base porotica o c'è una lesione sottostante? Esistono diverse diciamo indicazioni nella nostra semiotica che possono farci propendere maggiormente per un tipo di frattura o per l'altro. Normalmente le fratture benigne non abbiamo chiaramente una distruzione ossea all'ATAC e abbiamo spesso quello che vediamo qui c'è un aspetto a banda tipo intensità T1 che è abbastanza caratteristico delle lesioni benigne. Un altro segno che quando presente è assolutamente indice di benignità è la presenza di aria all'interno delle trabecole delle vertebre. Invece segno di malignità questo aspetto bombato convesso del muro posteriore con qui quello che vedete un'invasione di tessuto patologico che prende contrasto che si estende anche in sede paravertebrale che circonda il midollo questo aspetto qui è assolutamente indice invece di una lesione di tipo maligno. è molto diverso da quello che vedete qua vedete qui non c'è un aspetto bombato qui c'è un'interruzione netta dello spigolo somatico del muro posteriore che appunto è un aspetto di benignità. L'altro caratteristico aspetto invece di malignità è l'estensione dell'alterazione di segnale oltre il soma qualora non vi siano chiaramente elementi fratturativi che coinvolgano anche questi elementi. Quindi un'alterazione di segnale dei peduncoli è spesso indice di malignità. Infine questo aspetto che si chiama puzzle sun cioè questo aspetto in cui ci sono diverse fratture vedete questa interruzione di corticali questo aspetto qui è assolutamente un segno di benignità non c'è riassorbimento osseo non c'è lisi osseo questo è un aspetto che ci fa restare sereni. Ultimamente sono state utilizzate anche queste nuove sequenze di diffusione in cui chiaramente come vedete questa è la mappa di ADC e questa è la STIR nei traumi abbiamo la diffusione che è incrementata nelle lesioni maligne abbiamo invece un'elevata cellularità per cui la diffusione è ristretta. Negli ultimi a questo punto 5-10 minuti al massimo vorrei fare qualche cenno sulle emergenze di tipo non traumatico perché esistono delle condizioni per le quale è necessario fare un imaging in assoluta urgenza. Quali sono queste condizioni cliniche? Le condizioni cliniche sono i pazienti che hanno un onset quindi un'insorgenza acuta o subacuta di sintomi mielo-radicolari che sono rapidamente progressivi che sviluppano una progressione o una paraplegia che progressivamente sale fino a diventare paraplegia nell'arco di qualche ora. In questi casi la diagnosi è urgente, è cruciale perché può essere, diciamo, si deve intervenire anche chirurgicamente in tempi estremamente rapidi anche nell'arco delle primissime ore perché una compressione, ad esempio, che è sul midollo deve essere risolta in tempi rapidi per far sì che il paziente possa recuperare. In questi casi, quindi, la diagnosi è estremamente urgente. Queste sono delle vere urgenze, per esempio, di risonanza. E quali sono i red flags di questi pazienti? Sono chiaramente pazienti che sviluppano in modo rapido e progressivo una debolezza muscolare con associata dei deficit sensitivi, ma che hanno anche, ad esempio, dei disturbi sfinterici e delle disfunzioni sessuali. Le cause sono tantissime. Noi affronteremo, vi farò qualche breve ocenno soltanto di qualcuna. Questo solo per dirvi che le cause più frequenti sono date chiaramente dalle metastasi, dalle compressioni, da metastasi spinali che invadono lo spazio epidurale e comprimono il midollo, oppure abbiamo lesioni di sunnatura infiammatoria, quindi mieliti e lesioni da sclerosi multipla. Nell'ambito delle lesioni secondarie, chiaramente, abbiamo quelle da cellule, da linfoma e da tumore polmonare sono quelle in assoluto più frequenti. La caudequina rappresenta la sindrome della caudequina unica, una particolare forma di queste forme di mielopatia in cui chiaramente abbiamo questa caratteristica anestesia a sella. Abbiamo delle problematiche sfinteriali, innanzitutto vescicale. Il paziente sviluppa normalmente, non ha un'incontinenza, al contrario, ha una sovradistensione della vescica ed è incapace di sentire lo stimolo urinario per cui normalmente deve essere cateterizzato. Le disfunzioni chiaramente coinvolgono anche lo sfintere anale e la regione chiaramente sessuale. Si associano a disfunzioni sessuali. La sindrome della caudequina riconosce all'incirca le stesse cause delle altre forme di mielopatia per cui affronteremo, però questa è un'altra di quelle emergenze che deve essere di fatto riconosciuta e necessita di un trattamento acuto. La causa più comuna sono i tumori, frequentemente quelli extradurali e quelli che sono metastatici. Tumori intradurali sono molto più rari, normalmente sono intradurali extramidollari, cioè all'interno della dura ma fuori dal midollo, cioè meningiomi e neurinomi, più raramente sono invece intradurali ed intramidollari. In assoluto la causa più frequente rappresentata tuttavia da i tumori extradurali e extramidollari. In questi casi, seguendo i criteri americani dell'American College of Radiology Appropriateness Criteria e quindi qui è fondamentale perché sono le assicurazioni che seguono questi criteri che quindi rimborseranno quest'esame, si può passare direttamente anche alla risonanza senza poter, senza anche fare la, senza neanche fare l'attacca. Vi faccio vedere un caso di un paziente che è arrivato con un esordio subacuto con una tetraplegia che si è sviluppata nell'arco di qualche ora, un paziente affetto da mieloma multiplo, intravediamo questa grossa lesione di C4 e in effetti è un quadro di canale ristretto su base spondilogeno nel quale si è sommato questa massa che ha determinato una netta compressione del midollo spinale. Le metastasi sono le cause in assoluto più frequenti, vedete qui una paziente affetta da adenocarcinoma e il noto è la sua sindrome della cauda equina è causata da una compressione non del cono midollare ma di tutte le radici della cauda a questo livello per un'invasione del tessuto epidurale anteriore. Ecco un altro esempio in cui il cancro metastatico anche qui dalla mammella, qui abbiamo addirittura le compressioni su due livelli, qui a livello del cono che è lievemente anche per intenso e a livello delle radici della cauda. Esistono anche ovviamente dobbiamo ricordarci che esistono anche le metastasi intramidollari, questa è una metastasi di amelanoma, sono condizioni estremamente rare rispetto alle altre ma si possono verificare, li possiamo normalmente distinguere da tumori primitivi, questo potrebbe essere scambiato ad esempio per un ependimoma con un piccolo cap emosiderinico, in realtà questa è una metastasi di amelanoma che spontaneamente iperintensa in T1 ma la clinica della paziente è una clinica rapidamente progressiva nell'amco di circa due settimane. Vi faccio vedere qua un altro crollo vertebrale in un paziente noto per un adenocarcinoma del polmone che però aveva febbre e una precedente intervento su una valvola con l'impianto di una valvola cardiaca, qui la risonanza ci permette di dire sia su questo rilevo qua che su quest'altro che questo è un crollo su base infettiva e non solo metastatica riconosciamo qui appunto un enhancement periferico caratteristico dell'ascesso e quindi passo alle spondilodisciti con questo aspetto tipicamente ingranato delle vertebre una sull'altra il tessuto patologico e la possibilità di compressione del midollo spinale. Questo è un caso che abbiamo recentemente pubblicato su un paziente che era stato affetto da covid che ha sviluppato un voluminoso ascesso retrofaringeo che si è steso in via epidurale e ha determinato un'importante compressione del midollo spinale. Questo è un paziente che è stato operato però il cui risultato finale non è stato particolarmente soddisfacente. Raramente anche le voluminose ernie discali acute possono determinare un'importante compressione del midollo spinale. Ricordiamoci e quindi concludo penso in orario nei miei 45 minuti le cause infiammatorie la sclerosi multipla può essere utile documentare le forme attive per procedere immediatamente con i boli di cortisone ma ricordiamoci soprattutto le forme di neuromielite ottica che rientrano nella neuromielite ottica spectrum disorder con un'alterazione endomidollare che è tipicamente estesa per più di tre metameri vertebrali che soprattutto non dobbiamo scambiare per un tumore. Ricordiamoci che nella neuromielite ottica la neurite e la neurite ottica e la mielite non devono essere contemporanee possiamo avere addirittura a volte anche solo delle alterazioni cerebrali quando tipiche e che le alterazioni invece del midollo assomigliano per enhancement incompleto fondamentalmente periferica a quella della sclerosi multipla ma l'estensione ci può indicare che si tratta di una forma di NMO e questi sono pazienti che chiaramente vanno abbastanza trattati rapidamente. Ultima condizione che è potenzialmente letale è la Guillain-Barrell syndrome io da ecco da radiologo ho visto un paio di volte i pazienti dire dottore in TAC dottore aiuto sto morendo i pazienti che hanno avuto un risanguinamento nel in caso di di emorragia subarac un'idea da rottura di aneurisma in TAC e un paziente con Guillain-Barre che nell'arco di qualche ora è venuto meno e abbiamo caratteristicamente e tipicamente come possiamo riconoscere le l'enhancment delle radici della causa questi pazienti fanno normalmente un liquor che ha delle caratteristiche tipiche ma devono essere immediatamente trattati con plasmaferesi o con farmaci adeguati perché può essere una condizione potenzialmente letale naturalmente esistono delle forme vascolari l'infarto la fistula durale di cui ho parlato prima chiaramente l'ischemia le lesioni schemiche le riconosciamo abbastanza bene adesso con l'utilizzo di queste nuove sequenze di di diffusione tipicamente interessa una porzione centromidollare tipicamente la sostanza grigia ricordiamoci che nei pazienti in particolare anziani in particolare scuagulati anche senza fratture possiamo avere dei voluminosi ematomi epidurali o sottodurali che si vanno che si estendono per lunghi tratti della colonna e vanno a comprimere il midollo questo è un caso che abbiamo visto noi in cui addirittura vediamo la presenza del contrasto iniettarsi all'interno del canale e in risonanza in fase acuta cominciamo a riconoscere delle componenti spontaneamente iperintense in T1 la paziente è stata naturalmente rapidamente operata per cui in conclusione esistono urgenze di tipo traumatico e non traumatico che dobbiamo affrontare ed acquisire in modo adeguato possono esistere delle urgenze che richiedono l'utilizzo della risonanza nell'ambito della colonna naturalmente noi dobbiamo dialogare con i neurochirurghi e con gli ortopedici e fornire loro l'informazione che per loro è clinicamente rilevante e chiaramente abbiamo un ruolo fondamentale qui cito un lavoro del gruppo di Mario Muto che è uno dei neuroradiologi maggiormente esperti della colonna sia da un punto di vista diagnostico che interventistico in Italia noi radiologi abbiamo questa grande responsabilità nel stabilire la presenza e l'assenza di lesioni definirne le caratteristiche e chiaramente la prognosi e quindi avere un ruolo fondamentale nello stabilire anche il trattamento concludo suggerendovi queste quattro brevi letture di questi articoli fondamentali ricordarsi cosa è importante descrivere nei nostri referti questo è il lavoro che ho citato nelle mie conclusioni e permettetemi di ringraziare il dottor Luca Cappellini della scuola di specializzazione di radiologia e i nostri neurochirurghi con i quali collaboriamo fianco a fianco quotidianamente il professor Fianco Sernadei Servadei Maurizio Fornari la dottoressa Carla Nania Beatrice Bono e il dottor Andrea Pizzi e naturalmente ringrazio voi per l'attenzione benissimo benissimo professore Politi grazie di questa meravigliosa overview io ho molto apprezzato ho molto apprezzato quello che lei ha detto quello che tu hai detto mi posso permettere certo perché naturalmente questo è un argomento che ci riguarda molto da vicino perché come tu sai meglio di noi insomma noi siamo chiamati tutti i giorni a riflettare la colonna e non siamo neuroradiologi quindi ci hai dato una bellissima una bellissima carrellata di immagini molto molto diciamo esaustiva e ci hai fatto vedere delle cose molto interessanti come l'importanza appunto di andare a ricercare ogni qualvolta vediamo ecco una diversa diciamo come dire rappresentazione delle delle della colonna vertebrale quindi andare a ricercare le cause il perché mi aspetto che ci sia qualche commento dalla dalla sala nessuno e allora vorrei semplicemente dire questo a proposito ecco dei protocolli a cui tu facevi riferimento naturalmente che in effetti noi nel politrauma facciamo una unica scansione no diciamo adottiamo molto spesso un protocollo bifasico nel major trauma con una con una con una con una scansione diciamo post contrastografica in fase arteriosa che va dal circolo di willis fino alla simsifisi pubblica perché in realtà anche noi dobbiamo andare a ricercare quelle lesioni vascolari a cui tu facevi riferimento che si possono verificare anche in assenza di fratture così come hai fatto ben vedere che ci possono essere delle diciamo eh lesioni del midollo in assenza di fratture proprio per lo stesso meccanismo patogenetico di distracting injuries cioè le lesioni appunto da eh da trazione che possono appunto causare anche anche diciamo le eh le dissezioni le trombosi eccetera e noi siamo spesso i primi a doverle diagnosticare perché il paziente non è cosciente tanto per dire quindi poi naturalmente è necessario come tu hai giustamente sottolineato andare più per il sottile perché naturalmente diciamo questo viene viene naturalmente di conseguenza quando tante cose non si spiegano quindi io devo dirti mi sono mi è piaciuta moltissimo e ti ringrazio moltissimo per questa bellissima lezione e spero che gli specializzanti abbiano abbiano apprezzato molto perché devo dire è una sintesi straordinaria che evidentemente riflette un passaggio di una ventina da anni dietro questo argomento quindi ti ringrazio a nome del professore Carriero e di tutti quanti che hanno assistito a questa bellissima lezione io ti ringrazio e ti ringrazio per aver nuovamente sottolineato questo aspetto dell'acquisizione in fase arteriosa che parte dal centro dell'Illis che è un aspetto che per esempio nel nostro ospedale non viene sempre rispettato che cercheremo sicuramente di implementare ricordo che appunto le dissezioni carotidee vertebrali raramente si associano appunto a fratture e possono essere appunto e necessitano dei trattamenti immediati quindi ti ringrazio per averci dato anche questo suggerimento che cercheremo di implementare e ti ringrazio per la tua disponibilità e ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato grazie ancora grazie ancora professore Politi grazie grazie